Non c'è più tutto il tempo del mondo. Certe volte se ne ha l'impressione, ma è solo un inganno. Il calendario sa essere impietoso. Il presidente lo giudice non nasconde che ci siano stati dei contatti nelle ultime settimane per l'acquisizione del titolo della sua squadra. Nulla di concreto, però. E se proviamo a tradurre direttamente dal linguaggio della diplomazia, otteniamo una frase che ha per contenuti i seguenti. Alcuni individui hanno fatto presente il proprio interesse per l'acquisto del titolo della fiume freddese, ma non si sono fatti avanti fino in fondo. Ad oggi non è previsto nessun incontro ufficiale che possa sbloccare le trattative. La giornata del 30 giugno rappresenta il limite massimo per un eventuale trasferimento del suddetto titolo da fiume freddo verso un altro comune. Quindi, se non devesse succedere nulla al di là dei confini, l'unica alternativa sarebbe quella di coinvolgere un compratore all'interno. Il rischio di non vedere calcio di promozione nei dintorni della cittadina ionica in questo momento è molto alto.